Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17 Allora, siamo al 20 agosto, siamo più o meno nelle fasi finali del calcio mercato estivo Questa è la seconda parte del calcio mercato estivo, chi non avessi visto la prima parte del calcio mercato estivo Se la vado a vedere perché nel calcio mercato estivo, nella prima parte del calcio mercato estivo, no vabbè smetto Comunque è successo parecchia roba, chiaramente poi giocando eventualmente capirete cosa è successo, che è partito e che è arrivato Non ve lo sto a dire perché comunque, già sapere che roba è davvero, se volete saperlo e non volete rovinarvi, diciamo, la cosa Anche se è già venuto lui, uno in basso, dei acquisti fatti, che è un bolo, quindi vedete, no? Comunque vi consiglio di andare a vedere il video precedente E niente, comunque siamo qua, procediamo e guardiamo un po' cosa riusciamo a fare in questo finale Come già dissi nel finale del precedente video, ci sta che non succeda niente di cratante Il fatto di aver diviso il calcio mercato estivo in due parti, magari può essere sì, cioè si può rivelare un fallimento, tra virgolette Chi lo sa, vedremo Al contrario di quello che doveva succedere nel precedente video, stavolta ho deciso di mettere Odegaard nella lista dei prestiti Perché con gli arrivi che ci sono stati, comunque i giocatori che abbiamo troverebbero veramente poco spazio E è arrivata un'offerta appunto del Montpellier e niente, lo do, accetta Speriamo possa salire un po' via, possa giocare magari Abbiamo venduto Krull a Lille per in realtà 10 milioni e mezzo, ma diciamo per 8 milioni Perché alla fine ci sono arrivati i vestiti, per quanto riguarda il budget che abbiamo a disposizione Quindi adesso dobbiamo trovare un portiere, perché ho deciso di venderlo Perché comunque valeva un po' di soldi, il secondo portiere di solito non gioca mai Almeno con me, gioca solamente, almeno che non sia strapermettente ogni tanto rifaccia fare un po' di turnove Però mi sembrava sciupato, ecco, volevo 8 milioni e mezzo e tu perché non venderlo Ora magari mi dovrebbe prendere qualcun altro a po' o qualche portiere di una scarsa a po' Solamente per averci comunque un'eventuale riserva a Donnarumma, ecco Comunque nel frattempo siamo arrivati alla seconda partita del campionato Giochiamo in trasferta contro il Manchester City Guardiamo se riusciamo a comportarci in maniera uguale alla partita precedente Ovvero giocando super bene La partita precedente intendo quella contro il Watford che ho giocato nel precedente video Allora, andiamo un po' No, alla fine avevo detto che voglio far giocare a Basu solamente nelle parti casalinghe Tineman se con le trasferte Invece anche stavolta voglio far giocare Basu in titolare Però, come ho detto, invece delle foe lo metto adesso E basta, per ora giochiamo così Sì, ho messo delle foe al posto di Dembélé L'avevo detto che facciamo giocare comunque delle foe nelle partite in trasferta Almeno per ora Vediamo un po' come si comporterà Poi si reputo che delle foe dà partire dalla panchina anche se c'è 85 Lo farò partire dalla panchina Battono il calcio, inizia l'avversario e la partita inizia Dai bimbi, eh È una partita sulla carta difficile Però, conoscendovi, mi fido di voi Possiamo Giochiamo a Modeno, chiaramente Portare a casa un buonissimo risultato Bella roba Vai Vabbè, peccato Nooo Invece sì, Dembélé L'avevo già capito È rimasto da solo Qui, guardate, da qui Ho detto, Dembélé, vai Go per forza Guardate mi ha anche preso più il culo perché l'ha passata nel mezzo Tutti tutto 1-0 City Peccato però, eh Perché loro Non è che fino ad ora avessero fatto chissà cosa Finisce così il primo tempo 1-0 City Però la partita è sempre aperta Non ci sono state tantissime occasioni da ambo le parti Però La partita può si dir che è barricchia aperta Bella roba Vai, Embolo Maledetta la miseria Va bene, dai Però poi si farebbe anche noi Forse Nooo Pensavo fosse stato go De, per un momento Invece è andata bene a Mangala Vai, Dybala Nooo Peccato De Vai, Dybala Nooo Che tiracci Cambio Proviamo a cambiare un po' per cosa Allora, stavolta invece si lava Baswer E si mette Telemans Poi si lava Delefaux Che sinceramente ha fatto Po Per mettere Dembélé E poi si mette Rashford Al posto di Embolo Proviamo Finisce 1-0 Lo so, è una sconfitta E purtroppo non siamo stati in grado di fare nemmeno un gol Però Nonostante tutto Non sono costruito Così sfiduciato Ecco E' una sconfitta che purtroppo ci può stare Si è giocato contro il City Che Per quanto ci riguarda Quando giochiamo molto vele forti O si stravince O si perde Non c'è una via di mezzo E niente Però sono comunque fiducioso Perché ho visto una squadra abbastanza Diciamo competitiva Ecco Vabbè Comunque Procediamo Siamo arrivati alla seconda partita Del video Ma in realtà È qua di Coppa Quindi almeno per ora Non la giochiamo Quest'anno la Coppa è prima importante Di qualsiasi Coppa Anche quelle lì Diciamo di Lega D'Inghilterra Chiamiamola o si Però almeno i primi turni Vorrei Non giocare Speriamo bene Non è zero di balla Boh Chissà ma noi c'è un trasfetta Che se si gioca contro quelle Più scarse Soprattutto in Coppa All'intanto viene fuori qualcosa di inaspettato Quindi Il luttato non è così scontato Eh guarda infatti Mi ha pareggiato E poi subito Beh l'ha rifatto Meno male 3 a 1 Vai Dello è fu Ho dovuto prendere Svariati Svincolati Per evitare Eventualmente Il La classica No A volte Mi è successo Di Perdi Diciamo A tavolino Perdi a tavolino Quindi Niente Queste sono gli acquisti Eh belli Del finale Abbiamo venduto Memba A 21 milioni E poi vabbè Ce ne arriva A 24 Il suo valore cartiere Era 21 Quindi se noi Abbiamo fatto Un discretissimo affare Però adesso Doviamo cercare Un sostituto Un degno sostituto Vediamo un po' Direi che più che sostituto Abbiamo trovato Un nuovo titolare Sì ok Che Ho speso più soldi Non è che Ho speso 6 soldi Diciamo Ricavati dalla vendita Di Memba Però abbiamo preso La porte Più forte Quale titolamento Almeno Per quanto riguarda Qualità totale Dei due titolari Quindi Sarà Il nuovo Diciamo Titolare Da affiancare Accanto a Vedremo Probabilmente Tama Tenderemo Con zoom Età Si guarda Comunque Oltre a questa Mi ha venduto Tutto un altro Difensore centrale Alley Altolosa Per 6-5 Ce l'aveva 3-7 Buono E poi Inoltre C'è arrivata Questa cosa qua Prestito Di un anno Per Cerni Sì Perché ho messo Anche Cerni Per prestiti Ma io lo do Male male Se Dove succede qualcosa Lo richiamo O lo riprendo Cioè lo richiamo O lo riprendo A metà anno O sennò si lascia lì Fino a fine anno Vedremo Tanto si dà Oh dovrebbe giocare A cazzo Deve muoio C'ha 80 Finisce qua Il nostro carciomercato Fate mettere I nuovi acquisti Anzi In questo caso Il nuovo acquisto qua Non è successo qua Alla fine Niente di Eclatante Per quanto riguarda Gli acquisti Ovviamente Sti scherzoni E la porte Fatemi mettere Anche se non è corretto Non lo voglio fare Corretto a livello Di qualità Chiaramente Anzi Forse è più corretto Sì Che così A livello di ruolo Sì Forse Buzzer A posto di Tile Manzi E niente Questo è quanto Diciamo che Sono veramente Molto soddisfatto Del carciomercato Però Si poteva Al casino in più Perché comunque Mi sono rimasti Mi pare Poco più di 35 milioni Di budget Trasferimenti Che chiaramente Uno Cioè Posso anche spendere A gennaio Ci mancherebbe Però magari Mi sarebbe aperti Con una squadra Diciamo al completo Ora vi spiego Qual è La cosa che a me Non che non mi piace Cioè magari Vorrebbe avere Un po' più forte Sin dall'inizio Allora Il ruolo in questione Era questo La Williams È un terzino Sinistro Veramente Forte Addirittura A volte Sala anche Un po' troppo Quindi può essere Può risultare Anche diciamo Più che un terzino Non esterno Non esterno A volte Però sinceramente Mi gariberebbe Averci un altro Nome di qua Piuttosto che Willems Un terzino Sinistro Che secondo me È più forte E più promettente E a me Personalmente Mi piace di più Ovvero Shove Che si chiama così Shove Chiamata Nome di volete Ovvero il terzino Sinistro Che c'ha Will United Ho provato a fare Offerte Ma Cioè scambiando Anche Willems Mi chiedevano Troppi soldi Quindi purtroppo Non sono riuscito A A prenderlo Ecco Però Eventualmente Se le cose Remaranno così Ci proverò A fine anno Sì a fine anno Scusatemi A gennaio Per il resto Direi che è andata bene Forse Ramelle mette Un attaccante Vero e proprio Di qua Anche se Ok dice C'è il Rashford Però qualcuno Che è Qualtrimenti Più forte Se magari Ce ne sarà bisogno Magari Diciamo Ci muoveremo A gennaio Però direi che Tutto sommato È andata bene Sono state due partenze Importanti Ma l'abbiamo sostituiti Bene Soprattutto con questo qua Che è selezionato Di Bala Che è diventato Addirittura un 90 Adesso Poi ragazzi Questo Eriksen Preso Un relato gratis Sto lasciando Lo stipendio Con 88 Mi va Di russo Ammene stragar Berix E come giotori Siano i giochi Nella realtà Abbiamo delle foe Che per ora Poi eventualmente Chiaramente Dovano altre chance Me lo metto qua Perché Per come si muove Nonostante qualitativamente Sei più forte Di Embele Preferisco Invece Di Embele Però Ciò non vuol dire Che lui non giochi O non giocherà Può giocare Anche al posto di Bala A me Che se sono esterni Non me ne frega A destra o a sinistra Cioè Basta che in esterno Per me va bene Qualsiasi ruolo E basta Non c'è da dire altro Fatemi sistemare Lo signo Qui a Modino Vai Vabbè C'è Rushford Giovane promettente Magari che ne so Se proprio Non mi garbo Utilizzarlo Perché non lo so Come posso andare alle osi Comunque lo posso allenare Magari per rivenderlo E sono parecchio Sare a fare Normalmente Siamo a quattro riserve Si spera di non dover mai Richiamare qualcuno A presto Perché Se non mi si magari male Si rischia di Perdi Il tavolino Comunque Tutto sommato Va bene Poi ho preso anche L'altro Cazzo Ho preso anche la porta Che mi rafforza Anche la difesa Oh qui ci sa Una media Che è intorno All'80 Penso Da volermi male 83 Perché si lascia Perché poi Comunque faccio già Baser E NBLA Ma in realtà C'è 83 Tile Ma anzi 85 Dele foro No forse anche 84 Se non di più Boh non lo so Vabbè Qui ci sa Una bella media Ragazzi In soli tre anni Abbiamo fatto Grandi cose Per quanto riguarda La formazione Via Detto questo Questo è quanto è successo E come Comunque Iniziamo Il campionato E poi La Champions Sono uccidi Gironi A proposito Fatemi vedere Poi arriva la conclusione Sì Ci sta Sporting C'è SK E Napoli 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 Almeno sulla carta È quella che può Darci più noia Vabbè Comunque E niente Fra l'altro Vedo che Ci saranno più partite Eh sì I prossimi I prossimi E rimanere aggiornati Su tutti i video Di questa serie qua Ma non solo Via Vi aspetto Perché bisogna iniziare Diciamo In maniera vera e propria Tra virgolette Il campionato Perché Anche se in realtà Le partite sono Sì D'agosto Per me Il campionato Vero e proprio Inizia a settembre Lo so che È una mancanza Di cervello Che c'ho io Però Io la vedo sì Via Vi aspetto Ciao Ciao